Non si placano le proteste in Georgia. Migliaia di manifestanti si sono radunati questo sabato nella capitale Tbilisi rispondendo alla chiamata dell'opposizione per chiedere nuove elezioni parlamentari. Quelle tenutesi il 31 ottobre, secondo loro, sono state truccate. Stando ai risultati ufficiali, il partito al potere dal 2012 sogno georgiano avrebbe ottenuto il 48% dei voti contro il 45% preso da tutti gli altri partiti messi in seguito. Non ci fidiamo delle proposte del governo, dice questa donna. Non sono interessanti. Il governo cercherà di fermare questa protesta, ma dobbiamo raggiungere il nostro obiettivo. Le uniche trattative accettabili sono nuove elezioni, perché le ultime sono state truccate, dichiara un medico. Appoggerò questa idea anche se dovessi essere l'ultimo rimasto a protestare per strada. L'opposizione, guidata dal Movimento Nazionale Unito, accusa il sogno georgiano di broglie di aver minacciato i lettori e osservatori.